Con tutta fu li ha u Malta anna super computer? Infatti l'Università ta Malta ull SKA Square Kilometer Array I kollabrau flimkin bici usau da super computer al progetto Gli è che l'hande comparav dal computer ma l'computers li anna addar Che mu psahtu l'hande super computer? Mi è un gaming PC e abbiamo 4 CPUs Qui avevamo per esempio 6 cores, 8 cores Qui avevamo 64 cores, l'ho 30 E abbiamo 32 GB di RAM E questa è la super computer che avevamo da l'amont All'AirBos 6 in darbo Qui avevamo 64 motherboards Qui avevamo 2 CPUs E qui avevamo 32 GB di RAM Qui avevamo da hard disk space Come si chi ha chiamato la super computer? Come si chi ha chiamato la super computer? Come si chi ha chiamato la super computer? E qui abbiamo installato la super computer Quasi 4-5 anni fa In order to get more Improved research Facilites At the university Facilites 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 Il big boss Il master node Lli tu huqo si b'kollu Issa da kumma Qabdi ma xo xim network Giex tipa t'a network Giex t'a network Giex t'a la ffaiet slow Giex t'a la ffaiet fast Giex t'u zrax Giex t'agmellu Giex t'agmellu Taqbat xa xa gaħa giex Giex t'agmellu Giex t'agmellu Giex t'agmellu Giex t'agmellu Giex t'agmellu il cioo un barco di giega di proceso Esatto, esatto, erano una cosa che si chiama una per il run, anzi non ha fatto più ma è più rilevati il giorno ha come attivato ma è più un complicazzioni è una cosa che capita raggiungi, che ci sono stati e raggiungi il loro del risultato e magari stanno per esempio, un barco di gli ammese una barco di ammese e una barco di ammese che hanno avuto sega paglia ogni giorno paglia di giega di subiett e di ammese che hanno avuto segnalato L'arri di Giega Esatto, il Squ cookie che si chiama fa bene l'computere La